Abbiamo sostanzialmente toccato tutti i temi riguardanti l'università, dal diritto allo studio, al reclutamento, al tema dei finanziamenti, della valutazione, della ricerca, provando a fare un'analisi dello stato attuale delle cose e rilanciando con delle proposte anche molto radicali, in cambio radicale delle politiche attuali, per poter passare dopo cinque anni sfidando anche il governo rispetto al tema della gratuità per i studenti, per garantire il reale accesso dei studenti all'interno dell'università. I numeri non mostrano un'attenzione particolare del sistema Italia verso l'istruzione universitaria e la ricerca. L'Italia ha una spesa universitaria pari all'1,7 del PIL, contro una media OECD, Organizzazione per lo Sviluppo e la Cooperazione Economica, del 3,2% e una media dei paesi dell'Unione Europea, del 2,9%. Se si considera solo l'istruzione post laurea, il valore crollano allo 0,8%, contro la media OECD, dell'1,4%. In questo quadro generale si inserisce il Manifesto Politico Nazionale, presentato oggi dalla Rete della Conoscenza e dall'Adi, Associazione Dottorandi Italiani. A determinare la crisi del settore, secondo la denuncia degli studenti, la cronica riduzione dei finanziamenti, ma non solo. Gli studenti chiedono tempi certi per l'erogazione delle borse di studio, fissando un termine il 30 ottobre, a fronte dei nuovi parametri stabiliti dal Ministero che hanno pesantemente ridotto i beneficiari. La situazione in Puglia è abbastanza grave, nel senso che noi registriamo che rispetto all'anno scorso il 28% in meno degli studenti sono idonei alla borsa di studio, cioè abbiamo un calo vistoso di circa uno su tre, quasi uno su tre, che perdono questo diritto. Il grosso del disagio è per gli studenti degli anni successivi, i quali, mentre l'anno scorso per esempio con lo stesso reddito la borsa la prendevano, quest'anno non solo non la prendono, ma devono anche pagare le tasse all'università che prima non pagavano. Gli studenti chiedono anche un aumento dei posti letto nelle residenze universitarie, si contano su tutto il territorio nazionale 28.000 posti a fronte degli 86.020 diritto. Discorso analogo anche per il trasporto pubblico locale, costoso e carente per gli studenti di ogni ordine e grado.